Personalmente è già da un anno che seguo questo canale, Canale 88, e mi sento veramente come se questa, quasi chiamiamola macro regione, non avesse più confini territoriali. Adesso almeno abbiamo un canale soltanto per l'Umbria. È molto importante che la città di Gubbio venga anche promossa a questo livello. Io personalmente sono veramente molto felice di avere a disposizione da oggi un Tg in più e ringraziamo chi ha deciso di investire su questo tipo di programma. Io credo che l'informazione locale sia di fondamentale importanza e quindi credo che sia soltanto un punto di merito e un punto di vanto per tutti. Sarebbe anche bello, visto che è un po' che la seguiamo, di vederla anche sui social. Perché no? Anche con dei podcast. Sicuramente riaprirebbe un bacino di utenze molto molto più ampio. Auguro anche alle autorità oppure alle imprese di comprendere la validità di questo progetto. L'invito è sicuramente quello di intanto prendere atto di questa nuova apertura, di prendere atto anche della positività che questa attività sicuramente porterà. Aspettiamo i toscani in Umbria, nella nostra terra, con le nostre tradizioni. Noi sicuramente continueremo ad andare in Toscana. Perché nella vita le relazioni sono la cosa più importante e quindi tessere relazioni a diversi livelli è sempre tanto tanto produttivo.